Io in questo momento sono molto emozionato, è stata una battaglia fino all'ultimo voto, devo dire che questa battaglia esprime un segno serio, al di là del dato del voto, esprime un segno serio di cambiamento epocale per Bianco, cambiamento epocale per Bianco. Ho sconfitto personaggi di grande elevatura, anche fuori di Bianco, li ho messi in fila, ho messo in fila un consigliere regionale, ho messo in fila il candidato a sindaco, un ex consigliere pronunciato, il dottore Lascala, e ho messo in fila il dottore Mollance, che era uno dei sostenitori. Mi dispiace, abbiamo riconfermato la nostra amministrazione, partiremo per governare Bianco.